Se non sbaglio tutto è cominciato nel 1997-98 termina nel 2024 e tante persone dovrei ringraziare di questo lungo percorso non ce la faccio a ricordarmene tutte perché l'Alzheimer mi incalza vi ringrazio con queste immagini che vi salutano e vi ringraziano per essere stati così tanti, così sempre con noi grazie grazie a te Paolo, a tutti noi ho mangiato ho mangiato